Partito? Sì, dai Monton! 8 colpi, come Dio comanda, come ti ho detto di farli, via! Dai dai Monton, non lamentarti, magari muoio al sicuro e puoi partire! Non lo so per dire, vai! 1, via! 2, dai Montonazzo, via! Scendi bene, 3, molto bene, non arrivare teso con le ginocchia, 4, com'è leggero? Via! 5, 6, Montonazzo, continuare! 7, 8, via, via, via! Andare subito nell'altra postazione, veloce, 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 veloce! Non mollare Montone? Via Monton! 1, fatto bene, 2, 3, bravo così il movimento, fallo completo, 4, 5, 6, bello Montone! 7, relax Montone! 8, lo so chi è leggerino! 9, 10, continuare! 11, forza, impegno! 12, bello Montone! T'ho posto Montone? Era un po' leggerino forse!